Buon pomeriggio a tutti, ci troviamo qui al casello autostradale di Affi, lago di Garda Sud. Come vedete da questa mattina la neve non cessa di cadere, però tutto sommato il traffico non ha rilevato dei gravi problemi per la viabilità. Per bene con questi v da Affi, Leonardo Magro.